Prende definitivamente vita dopo le aperture parziali degli scorsi anni la nostra storica villa ottocentesca Bitontina appartenente alla famiglia Silos, detta anche la Contessa. I fondi provengono dal bando periferie aperte e gli interventi sono costati circa 2 milioni di euro. Mi fa piacere vedere la zona 167, più ricca di verde, più ricca di parchi giochi, più ricca di bambini. Io dico sempre che quando ci sono i bambini c'è un deterrente alla criminalità incredibile perché dove ci sono loro c'è vita e si percepisce sicurezza e si fa anche aggregazione sociale. Mi fa piacere anche aver visto le forze dell'ordine oggi qui presenti. Spero diventi una zona anche di investimenti privati, anche di attività commerciali, noi abbiamo tante attività commerciali nel centro cittadino ma sarebbe bello anche vederle qui. Insomma il pubblico ha occupato tutto quello che poteva occupare come spazi comunali, adesso è una zona 167. Speriamo adesso di vedere il ritorno anche nella fiducia degli investitori privati. Sì, sono soldi ben spesi che hanno anche una valenza simbolica, è sicuramente un simbolo per questa città, per la città di Bitonto perché è un posto per l'aggregazione, per socializzare, per stare insieme in una periferia. Ma un valore simbolico anche per l'area metropolitana di Bari, per i 41 comuni, per il sud del nostro paese. Il centro polifunzionale è aperto nella zona 167 della città, oltre che una estesa area giochi avrà al suo interno una serie di servizi come attività laboratoriali, centri di ascolto e mediazione familiare, attività di recupero scolastico e specialistico, percorsi ludico creativi, corsi di inglese e corsi di formazione per operatori del sociale. Saranno attivi anche diversi sportelli di consulenza sul mutismo selettivo di consulenza psicomotoria e di allattamento. La contessa è stata caratterizzata da subito, sin dalla proposta comunale, come luogo di aggregazione per famiglie e bambini, tant'è vero che il nome utilizzato è la città della del bambino. Quindi tutta una serie di attività laboratoriali, di supporto alla fase educativa didattica, verranno svolte all'interno di questa struttura, per famiglie, bambini, col bel tempo sarà possibile usare anche la parte esterna. Questa è proprio la vocazione di questo luogo. L'occasione inoltre è stata propizia per trovare una degna collocazione alle 11 opere realizzate nel 2015 durante un simpogio di scultura voluto dal compianto artista Franco Sannicandro. Ieri mattina inoltre è stato inaugurato anche un nuovissimo skate park, sempre nella zona periferica della città, a disposizione di tutti i residenti.